La Allianz Pazienza Cessistica Città di San Severo espugna il Palayaia di Palestrina e chiude la serie sul 3-0, superando di misura i padroni di casa col punteggio di 82-84 al termine di una partita avvincente ed esaltante, in cui l'esito finale è stato incerto fino alla sirena finale. Gli uomini di coach Salvemini ora dovranno affrontare l'ultimo atto di questa straordinaria ed esaltante stagione, le Final Four di Montecatini Terme. Appuntamento quindi a sabato 9 giugno al Palaterme di Montecatini Terme, dove la Allianz Pazienza Cessistica Città di San Severo affronterà la Baltur 100. L'orario della gara sarà comunicato ufficialmente nei prossimi giorni.